Domenica 20 settembre dalle ore 7 alle ore 23 e lunedì 21 settembre dalle ore 7 alle ore 15 i cittadini italiani sono chiamati alle urne per esprimere un giudizio sul referendum costituzionale sul taglio dei parlamentari. I marchigiani dovranno votare anche per eleggere il presidente della giunta regionale e per il rinnovo del consiglio stesso. In alcuni casi dovranno scegliere anche il sindaco che vorranno al governo della propria città. Per votare chi ne ha diritto è necessario recarsi al seggio del comune di residenza munito di tessera elettorale, documento di identità valido e mascherina. Chi non ha la tessera o la smarrita può richiederla all'ufficio elettorale del proprio comune. La scheda sul referendum sarà di colore azzurro e se vincerà il sì i parlamentari passeranno dagli attuali 945 a 600. In caso contrario il numero rimarrà invariato. Invece per dei regionali la scheda sarà di colore arancione. L'elettore può votare anche solo per un candidato alla carica di governatore che nelle marche sono in totale 8, tracciando così un segno sul nome. In questo caso il voto si intende espresso anche a favore della lista e di conseguenza della coalizione di riferimento. Inoltre si potrà votare soltanto per una lista e il voto si intende a favore del candidato presidente a essa collegato. Non è ammesso il voto disgiunto ma l'elettore può esprimere scrivendo il cognome oppure nome e cognome in caso di omonimia. Una o due preferenze per i candidati a consigliere regionale della lista prescelta. In tal caso devono essere di genere diverso per un uomo o per una donna o viceversa. In caso contrario la seconda preferenza è annullata e resta valida la prima. Infine per le amministrative i comuni al voto nella provincia di Pesaro e Urbino sono quelli di Isola del Piano e di Sant'Angelo Invado. Il 20 e 21 settembre dunque l'elettore all'interno del seggio dovrà rispettare tutte le misure di sicurezza previste per contrastare l'emergenza coronavirus e seguire così le indicazioni che saranno fornite prima e durante le operazioni di voto.